Fresco di stampa il nuovo volume universitario edito da Franco Angeli Economia circolare, la sfida del packaging. Dieci capitoli divisi in due moduli che offrono un panorama completo sul concetto di economia circolare e che approfondiscono il tema di rilevanza internazionale della gestione del fine vita degli imballaggi. Fortemente voluto da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, il libro annovera oltre 30 autori, tutti studiosi ed esperti del settore ed è curato da Alessia Campora e Carlo Alberto Pesaresi, rispettivamente ricercatrice e docente universitari. Ho sempre sostenuto che formazione e competenze interdisciplinari sono essenziali per affrontare le sfide cui si troveranno davanti la nostra green economy e il settore del riciclo a livello internazionale, ha commentato il presidente Conai Luca Ruini, autore della prefazione. Sono certo che economia circolare e la sfida del packaging sarà un valido contributo e proposito offrendo alle nuove generazioni universitarie sia conoscenze teoriche e che sia esempi di come queste possano trovare concreta applicazione.